Siamo al congresso dell'Eureps, che è il congresso dei giovani residenti o specializzanti di chirurgia plastica europea. È un congresso a cui si vuole dare una valenza assai formativa, tant'è che il professor Moschella, il direttore della scuola di specializzazione di Palermo, l'organizza con tutti i tutor che sono i direttori delle scuole di specializzazione italiana. In questo contesto lasciamo che gli stessi specializzanti conducano, ovviamente coadiuvati dai tutor, le loro tavole rotonde, contestualizzandole in quelle che sono le tematiche più innovative della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Per innovativa intendo tutto ciò che oggi c'è di nuovo e le nuove frontiere della nostra chirurgia. Sicuramente in questo contesto si è parlato di chirurgia rigenerativa attraverso le cellule staminali e il trapianto di grasso, della microchirurgia, della chirurgia rigenerativa e pertanto sono tutte nuove contestualizzazioni che creeranno sicuro interesse nei giovani, nei nuovi specialisti e creeranno quelli che sono per noi gli specialisti del futuro e che l'università deve formare.